Siamo portati così Siamo portati così Il motore in chiamme Cuoco Siamo portati Siamo portati Siamo portati Siamo portati Siamo portati colpito Versaglio colpito Attacco d'artiglieria Coordinate Delta Quattro Eliminare Delta Quattro Ricevuto Aprire il fuoco E vai fuori Carro armato A ore 4 Distanza 300 metri Avanzare Ricevuto Avanziamo Colpito Versaglio Versaglio colpito Versaglio colpito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. We no longer have you next. 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 We're ahead of the enemy. Missile terra aria a ore 2. Bistanza 500. Bistanza 500. We no longer have you next. We no longer have you. We no longer have you next. 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 Bye.